Ma la richiesta tua quale? La richiesta mica è una prolunga ancora ma la bella che stai già ci fanno dorsicare tutti gli uomini qui ci stanno facendo dorsicare tutti gli uomini ci fanno la cammina che ha paura ancora non tengo i soldi per me accattare la mascherina e la sigaretta mi ha accattato i figli di me stamattina sono quattro mesi che sto a filmare perché noi a queste condizioni andando non potermi più io specialmente non tengo niente di più a cominciare a scrisare una volta ma stanno facendo? voi decidono come il comune vado a mandare il sindaco deve fare il sindaco il sindaco deve fare il sindaco il sindaco deve fare il sindaco noi ci possiamo prendere in casa e la ricostruzione non se ne va traiamo il caso di terremotato noi amministratore che dobbiamo c'è una soluzione noi come amministrazione stiamo con amiche scusate ma faccio a riceriggio sono con solitaria hanno detto allora che dobbiamo fare? diciamo che dobbiamo fare il sindaco non sta soluzione visto che hanno detto che era vergognoso che noi in tre anni non eravamo riusciti a trovare case in affitto ce la trovasse il comune ce la trovasse Schilardi visto che è così facile è così facile è così facile